Ben tornati, riprende SOS Aghezzo TV dopo qualche giorno di interruzione forzata ai noi per motivi di salute abbiamo preso io personalmente la varicella, adesso è malato Giuseppe Marconi che ci seguirà penso dal letto, lo salutiamo e adesso gli dobbiamo dire qualcosa a Beppe Marconi di quando era vice sindaco. Siamo con Paolo che è un residente della zona Tortaia, dedicheremo due puntate a Tortaia perché ci sono dei problemi che bisogna analizzare. A cominciare questa sera vogliamo parlare, perché tu Paolo abiti qui, questa è la tangenziale che vediamo, la quarta casa giù, questa è la tangenziale quindi un via vai continuo di macchine, voi avete il problema da tempo del rumore. Sì, del rumore, delle barriere antirumore, quando c'era Luccherini poi dopo… Poi si è andati da Luccherini e allora c'era l'assessore ai lavori pubblici, Cantaloni, Ginelli, l'attuale sindaco. L'attuale sindaco e quale che diceva va bene, va bene. Lo facciamo. Cosa dovevano fare? Delle barriere? Delle barriere. Che dovevano essere messe sulla strada. Sulla strada, sulla strada. Come avevano fatto di là, ecco. Poi dopo è venuto il Fanfani, il Fanfani, ho cominciato a tallonarlo il Fanfani e lo conoscevo anche personalmente. E dopo di che, dopo tanto che aveva fatica di fare, di ricevermi, nello stesso momento parlai con Dringoli. Sì. Dringoli che era assessore ai lavori pubblici. Presi di cuore la faccenda. Sì, sì, si fecero vari progetti, cominciando con i pannelli solari come nell'autostrada. Però fu la questione che c'erano gli alberi, non c'era luce abbastanza, lo spazio. Dopo di che mise nel triennio dei lavori pubblici e erano stati messi anche i pannelli. E' erano opere finanziate. Sì. Però ad un certo momento Dringoli, sì, 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 sì. E passavano tempo, tempo, andai ancora dal Fanfani. E disse sì, va bene. Dopo mi ha portato fino all'ultimo, erano già finanziate, andai anche dal Marconi che era vice sindaco. Che cosa ti ha detto? Sì, sì. Anche lui sì, sì. Tutti sì, 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 dicono. Tutti sì, sì, sì. Poi dopo di che... Lui pensa al carnevale, prega, delle barriere anticomure. Dopo di che, dopo, e dice, è caduto Fanfani, è stato quei sei mesi di... Con Gasperini. Con Gasperini. Con Gasperini, che non ci andai nemmeno perché... Per sentire un altro, sì, sì. E allora continuai con... Sì, 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 sì. Con Chinelli. No? Con... Con Dringoli. Di Dringoli. Sempre Dringoli. I Dringoli, sì, sì. E disse, però alla fine fece fare questi... Il centro sociale... Hanno finanziato il nuovo centro sociale di Tortali. Cioè è passato avanti, diciamo così, alle barriere. Alle barriere perché avevano più interesse delle barriere, perché c'erano le votazioni. Ecco. Certo. Dopo di che... Ma c'è la gente in questo centro sociale? Il centro sociale è chiuso. Ah, è chiuso. Perché è una cosa della vecchia... Fu un liste con... Non si sa se è stato chiuso così... Non si sa. Non si sa. Ma comunque... La banca del Truria era... Ah, sì, cioè va bene, è una situazione complicata. Quindi, si arriva adesso a Chinelli. A Chinelli. A Chinelli sono stato appena eletto, appena eletto. E andai per prendere un appuntamento. Però... Non si parla. Il comune è chiuso. È chiuso. Se vuoi prendere l'appuntamento, allora prese l'appuntamento. No, non prese l'appuntamento. Pubblicai delle gran foto qui. Sì. E... Essendo Gamorini. Sì. E mi chiamò. Ah, bene, Gamorini ha chiamato. Mi chiamò e dice... E gli mandai tutto, perché oltre che queste barriere c'era anche la questione del sottopasso. Quanto piove l'acqua, viene giù e ha fatto un solco tremendo, è pericoloso. Sì, poi se questo magari ne parliamo domani. Sì, sì. Allora, quindi Gamorini su queste barriere anticomune? Allora, appena ci andammo con io e con un altro, con un altro residente che mi vicino. E quale? E disse, no, io non posso fare niente, non posso fare niente. E dico, come non posso fare niente. E anche l'ingegnere Kelly, l'ingegnere Kelly, la donna, una donna, l'ingegnera Kelly... E ha detto, ma ne parlerò un'altra volta, perché il progetto è già... C'è, è lì fermo. Fermo e nessuno fa niente. Ma quanto comore sentite in casa? C'è stato anche un rumore, si sente 80, 80. Cioè l'hanno misurato? Sì. 80 decibel? Sì, sì. L'ARPA è venuta. Ah, è venuta a misurare l'ARPA. E siamo fuori livello? Siamo fuori livello. Quindi qui? E poi dalla distanza, dalla strada, alle case è meno di 30 metri. Quindi è irregolare? È irregolare. Ma queste sono case popolari o case non... Case sono viretti e schiere fatti in edilizia economica. Economica, sì, sì. Non sono case popolari. Comunque, il vice sindaco ha detto che non si può pagare. Cioè, ma che non hanno i soldi o perché non hanno i soldi o perché non hanno la competenza? No, non si sa se sa. No, forse non gli interessa di queste qui. Perché questa qui, quanto fu cominciato, costava circa 150.000 euro. Fa che questo intervento? Fa l'intervento. Perché era intervenuto anche i roggialli, quello dei verdi. I verdi, sì, sì. E che aveva detto, guarda, c'è un... Perché c'era anche il fotovoltaico. Va bene. E che aveva detto, dovevo non mettere il fotovoltaico. Allora, facciamo l'appello anche al sindaco e al vice sindaco Gamurrini di riprendere in considerazione perché qui è un problema sentito. E poi dopo c'è un'altra cosa. I dei pioppi. No, questo ne parliamo domani, non mettiamo troppa carne, come si suol dire. Ci vediamo domani e parliamo di questi, degli altri problemi qui della zona di Tortaia. A domani, buonasera.